Chi è sto, chi è sto vichingo di merda qua? E' una capra molto grossa Un coso molto incazzato Tua madre! La telecamera però! Porca tro... Corri contro il bomb Si capisce un cazzo? La bellissima telecamera Putta Madri merda! Comincia qua la sagra del... Del porcone Scusa, ho crollato Si ma hai le fischette non potenziate Ma sarà moolto lunga Non lo fa! Noi! Ma che merde! Ma che merde! Ma se ti stai zitto è meglio Sto gioco trolla perché pensi che tu il boss sia il coso In realtà è la strada per arrivare al boss il problema Ma fra è una cazzata E' una cazzata ma io lo sto facendo per la prima volta Tu magari lo sai già com'è il gioco Quale è il mio punto? Quindi Quindi vuol dire che tu sai già dove sono i boss Sai già dove... Ah! Sai già dove andare? Cosa fare? Io non ho idea di che cosa ci sia lì davanti Non ho idea di come si combatte qualcosa lì Quindi... Caput... Fammi almeno entrare! Fammi almeno entrare! Figa! C'è bornello figa Che posto di merda per mettere un boss C'è... Ancora più più stretta la stanza Vabbè... No! Da dietro la porta no! Da dietro il muro no! Da dietro... Quella ci... No! Dai! Da dietro il muro! Che vergogna! Da dietro il muro! Le hitbox fatte con il culo! No! Indizio asterisco come è morto il toro anche la capra farà la stessa fine asterisco Lama è lui che gioco non può Suiciderà Dai però! No! Menù del merda! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Via! Vattene! 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 Adesso il calcio! Madonna mia! Faccio fatica veramente ogni tanto a... Con i controlli a dirgli quello che voglio fare e quello che non voglio fare Ne sono già due flaschi sotto il boss Ottimo! Quando arriviamo là non ne avrò neanche una Però! Prendili però! Prendili però! No! Cristo santo! Dove stava mirando? Perché? Vai! 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 Non posso fare niente! Tutto bloccato! Minchia! Ma che... Che palle! È noioso sta cosa qua! Non è possibile! Non puoi spostarti Non puoi far nulla Entri dentro una stanza e ce l'hai davanti Dai ma chi è che ha da pensare Chi è che ha disegnato quelle cose qua E devi rifare lo stesso punto 40 volte Adesso quello lì rompi i coglioni Se non lo faccio fuori Risolto Entri nella stanza del boss Non puoi neanche spostarti Ti sciotta subito Se rolli non c'è spazio per rollare Quindi non puoi andare da nessuna parte Perché non lo prende Perché non lo prende Lui mi dà due colpi invece Dai Ste cazzo di Hitbox della maincham Veramente Porca puttana Sembrano le hitbox della Nintendo 64 Sono serio Cioè come fai ce l'ho davanti Ok alcune volte colpisci il nemico Alcune volte la spada piglia contro le cose E' inconsistente come cosa Ecco stavo mirando il cane io Stavo mirando il cane Zero flask No c'è un altro cane qua C'è un altro cane corri Questo è proprio cheap come boss Questo è proprio cheap Questo è proprio No non è salt Questo è proprio cheap Questo è proprio fatto male Questo è proprio brutto Cioè non ti dà neanche la possibilità di entrare nella sostanza Questo è fatto proprio male Probabilmente è una cagata Probabilmente lo uccidi con due colpi Ma siccome non puoi neanche avvicinarti Non vuoi fare un cazzo Non è buon design questo Mi dispiace ma questo non è buon design Gioco che pretende di essere precisi Precisi al millimetro Ma poi la telecamera va cazzo Dove cazzo vuole Lei dai Ho donato per questo Capisco che ha fascino È particolare come gioco È un gioco Cazzo perché È un gioco fatto Bene Al 100% No 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 C'ha dei flaws C'ha dei difetti Che sono grandi Come delle case Se magari lo prendiamo Magari Cioè Ma neanche al 70 Probabilmente Nei capitoli successivi Le hanno migliorate Quella cosa qua Questa versione qua Non ha il problema Del framerate Che aveva la versione Per l'Xbox E la PS3 Meno male Meno male Fra non so difetti E tu che non ci sai giocare Perché questo boss È una cazzata Io te lo batto Con un tentativo Ok Ma tu l'hai già giocato Anche se Se io ti metto a giocare Quake Io te lo faccio Senza morire una volta Perché conosco il gioco Conosco tutti i difetti Del gioco Conosco tutti i punti Tutti le varie cose Quindi lo faccio tranquillamente Tu lo giochi Come minimo Ti disintegrano Perché non conosci il gioco Quindi è facile Che per tu Tu è normale Che ce la fai a farlo subito Perché lo conosci Siete due persone diverse Cugino lui non è te Che ragionamento è Il ragionamento è Che non è il gioco difettato Se non sai giocare Ok Perfetto A me A me sto boss non piace Questo si però Tutto quello che ha detto Spag è giusto Il segreto è la scala Cioè No Porca putt Quello che ha detto È che ha dei difetti Perché non riusciva a batterlo Cugino Probabilmente ti dirò Le stesse cose Quando avrò finito il gioco No hai capito male tu Se vuoi te le dico Quando ho finito il gioco Così hanno validità Anzi Saranno molto più precise Perché avendo visto tutto Posso essere più imparziale ancora No Attaccalo però Attaccalo Minchia 40 anni dopo E poi non hai le estas potenziate Non so Non sono io l'esperto qua Mi hai parlato davanti Mi hai fregato Mi hanno fregato Mi hanno fregato No Figa ma Per potenziale devi raccogliere le anime delle guardiane Sapevo che prima o poi Cadevo giù da quel cazzo di scale Perché Perché la telecamera La fa cagare il cazzo La prima sta sull'altare della chiesa dell'incantatore Strano che tizio non me l'abbia detta sta cosa Se vede che tizio non me l'ha detta Perché non l'ha ritenuta importante Probabilmente come cosa L'hai già presa Ho già presa Dovresti averla già presa Devi usarla dalla guardiana del falò Volevo fartela usare prima di battere l'uomo giallo Ah ok Ma poi sono andato a mangiare Lol Devi tornare al falelink La seconda sta a petite l'hanno Però sono un po' complicate Alle prime armi da prendere Quindi potenziale Fino a più uno Dai ma vai a carino Dai corri corri Vabbè Solo io eh Sono io che non ce la faccio Ma qua mi avevo un shottato Sei entrato con uno sputo di vita di che ti lamenti No era metà vita Qui ha ragione cugino Cerca di entrare full vita Fra e poi ravviva la fiamma al falò Così prendi dieci estas Tutto lo zò che mi sta inseguendo Se muori potenzia il falò E potenzia queste cazzo di estas Sì le potenze le esto Ok Con calma cugì Ah c'è un altro qua Nascosto Minchia che male Vabbè Prima devi tornare umano Diventa umano E poi Kindle Ok La Twin Humanity Sarebbe l'equivalente di due umanità Ok Adesso Kindle giusto? Ora o ci provi così o torni al Firelink Dai che forse per mezzanotte lo sconfiggiamo Eh non sei obbligato a star qua se ti annoia eh Io non mi annoio era solo ironia Ok Il mio era solo un consiglio No Corri 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 Ah madonna Ah madonna Staccalo Dai Non ci credo Quel cazzo di freccia Che faccia di merda Minchia Però Mamma mia Che supplizio Gesù Cristo Parapara 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 para para pedro para 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 pedro para pedro para pedro para pedra non è pedro perché è una donna ok come è diventata silenziosa la chat improvvisamente ci stavamo annoiando veramente allora copriti 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 qua ok dai ce l'abbiamo fatta ci abbiamo fatta arrivare al boss che ci abbiamo fatta abbiamo fatto arrivare al boss che è già un progresso è già una buona cosa ok good very good very good dimmi che è un boss disegna bene questo qua it's salty as fuck it's like pure soul all you could taste was soul you couldn't taste anything il toro ci stava questo qua si attraverso il muro mi colpisce dai ma anche ste cose anche ste cose attraverso il muro attraverso il muro se lascia che passa attraverso il muro ma vai a cagare ma vai a cagare dai stanno andando anche a fuoco ma vai a cagare sto spara sto picchiando contro contro la grata dove sono saltati fuori come si fa abbiamo one shotato ma non ci credo ma non ci credo ma non ci credo veramente oh c'è oh c'è oh c'è oh c'è c'è son castrato non vedo che cazzo oh c'è c'è o c'è c'è oh c'è oh c'è oh c'è Fammi bere Via 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 Se tu butti dalle scale Lui sta giù lì fai un sacco di male Il problema è Sperare che lui sia lì Cani in mezzo che rompono i coglioni Li prende? No L'hitbox oppure no Gesù Cristo queste cose qua Mi fanno incazzare Non puoi che ogni tanto di becca Ogni tanto no Wow 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 Prova a livellare Ecco dai 100 100 dai facciamo al 100 Dai 100 su Alleluia E ancora un po' Giù la bomba atomica Ancora 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 Yeah 100 100 We have returned to the world of Dark Souls We have returned to the world of Dark Souls There's a giant eagle Oh my god That bug is Do you want to run son? Are you sure you want to run? I can't move So what am I supposed to do? Freeze the sun Oh Freeze the sun Are you kidding me? What the fuck is this? This Dark Souls Son of a bitch I can't move I can't move I can't move I can't move I can't move